E' stato sottoscritto l'accordo tra la Regione Abruzzo e i sindacati dei medici di medicina generale FIMG, SNAMI e SMI che segna l'avvio della collaborazione per la campagna vaccinale anti-Covid-19. Il documento è stato sottoscritto dall'assessore alla salute Nicoletta Veri, dal segretario regionale della FIMG Franco Pagano, dello SMI Pierino Picciani e dello SNAMI Nicola Grimaldi. L'adesione alla campagna vaccinale dei medici di assistenza primaria, di continuità assistenziale dell'emergenza sanitaria territoriale e dei medici iscritti al corso di formazione specifica in medicina generale avviene su base volontaria e nei prossimi giorni ciascuna ASL provvederà ad acquisire le disponibilità. I medici di assistenza primaria potranno vaccinare nei propri studi, alla domicilio dei pazienti o nei punti di vaccinazione territoriale che saranno allestiti dalle ASL nel rispetto dei protocolli sanitari di sicurezza per operatori e pazienti. Solo in queste strutture potranno invece operare i medici di continuità assistenziale di emergenza sanitaria territoriale ed i medici specializzanti.